3, 2, 1, in un sono il disagio questi ragazzi comunque siamo già in chiappa la chiappa un attimo stiamo lavorando per voi un attimo 2 ore dopo perché stiamo un attimando? stiamo aspettando a te stiamo aspettando a me comunque salve a tutti ci presentiamo dopo 20 minuti però ci presentiamo 6,5 ore dopo ma ci voglio mettere ma è il mio video ma è il mio sto scrivendo io voglio continuare e facciamo questo video di apertura per il canale perchè perchè facciamo questo video di apertura per il canale? parla parla se dice parla no ecco questo è il vero problema di quando uno vuole fare una presentazione di un canale ci sono questi due deficienti che non smettono di ridere ma comunque il canale ha anche la telecamera intensely comunque siamo vuoi dire come si chiama il canale? allora il canale si chiama a chiappa la chiappa non mi chiedete perchè perchè vedi a chiappa la chiappa senti questo è il disagio senti salve a tutti salve siamo in forse vi ricorderete di me questo è bellissimo stai registrando? ottimo 3 2 1 buonasera a tutti facciamo questo video di presentazione per il nostro canale che si chiama la chiappa la chiappa No, noi ci chiamiamo Giacchiappalacchiappa E il canale si chiama Giacchiappalacchiappa? No, Giacchiappalacchiappa si chiama il canale E noi quindi ci chiamiamo Giacchiappalacchiappa Quindi? E quindi il canale si chiama? Giacchiappalacchiappa Comunque, dopo questo piccolo sketch Non è un sketch È una verità Questa è il tv per Italia Questo è il bello della diretta Ma che diretta? È cinquantissimo questo che registriamo È la presentazione più lunga della storia Buonasera a tutti Facciamo questo video di presentazione del canale Anche per me non mi piace la camicia troppo aperta Salve Vi voglio fare questo appunto Hai detto che dobbiamo stare con Mezzinuno Mezzinuno Allora, io chiedo veramente la pietà di tutti Questi mi stanno rompendo il cazzo Abbiamo fatto già 60 video e non riusciamo a fare una cazzo di presentazione Non sono così bassi nella vita No, è lui che ha dei libri a culo Perché la cultura a cui mi ha portato il cuore Nonostante sia il più alto di tutti e tre Comunque Non sono così bassi Salve a tutti Facciamo questo video di presentazione per il canale Noi siamo gli Acchiappa la Chiappa Se mi stai facendo Tre ragazzi molesti più un quarto che non c'è Stai facendo Umbra, non vale Vuoi presentare tu? No, no, non Ok E siamo gli Acchiappa Fantasmi Graziella Ma che cazzo Gli Acchiappa Fantasmi Salve Sono tra i meccuno Il disagio regnerà padrone su questo Salve Non fa una bro E' libero del pe Questi sono gli argomenti principali del canale E' libero del pe Salve a tutti Siamo tre ragazzi carini Facete Ciao Ciao Sono un ragazzo Sono un ragazzo carino Devo pensarsi un salice Perché non abbiamo più Alla prossima puntata di Acchiappa la Chiappa Siamo tre ragazzi carini Alla prossima puntata di Acchiappa E' libero del pezzi Ci sono un ragazzo carini Grazie a tutti